Musica Buongiorno ai chiedetti, io sono Eli Gabriel e oggi siamo qua su Formula 1 2013 ma c'è un problema perché purtroppo ho registrato tantissimo tempo fa, sì, questo episodio di Formula 1 e qual è il problema? Avendo fatto questo video come streaming perché il programma della webcam non funzionava di conseguenza ho notato alla fine che aveva registrato da culo, non so perché, però adesso che ci penso lo so forse perché giocando e streamando non riesce a registrare bene, riesce a streamare bene però non registra bene per quello devo cambiare la GPU, quindi ragazzi godetevi quello schifo di video che seguirà la mia voce adesso e sono cazzi vostri perché tanto io il video l'ho già fatto e quindi ve lo godete voi adesso, ok? Ok Buongiorno ai chiedetti, io sono Eli Gabriel e oggi siamo qua su Formula 1 2013 per la tredicesima gara del campionato siamo a Singapore, un circuito di merda perché è un circuito cittadino, a me fan cagare a posto, partiamo Marina Bay ragazzi, Marina Bay allora, primo, Vettel, mamma mia sto stronzo poi, Nico Luckerberg terzo, non so come poi sono io ventiduesimo perché sono furbo dai 15 giri c'ho il piede pesante c'ho il piede pesante oh, frena non ho capito perché le Ferrari sono in queste posizioni c'è boh era diciottesimo, diciannovesimo, massa non lo so, è mi ha fatto proprio una qualifica dei cazzo e vai tutti i fessi che si fanno in chiappetta allora, la cosa che mi sta sul cazzo di sti circuiti cittadini è che io non ci so proprio guidare oh, eh, 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 eh non parli della pata, è stronza non so che ti piace qual è il problema? il problema è che ad ogni curva fatta da culo vado contro il muro e mi danneggio l'avettono ovviamente per quello che poi ti dura puro e faccio una prestazione di merda e li apri it's the number one of the world sono in quindicesima posizione c'è già la gente che dai ricciardo di merda che sta andando in box cattroia Samir e non capisco perché quattro giri già i box poi sono andati in due i box no tre e due non li ha dimenticati non so di mettere il motore sull'auto adesso stavano andando a pedale un po' di no cosa ho andato a montare il motore ooooh brutta curva e sta le righeate no c'è massa che vuole passarmi no uuuh rallentiamo massa così la smetti di rompermi che eh no però io devo raggiungere il ricerdo dio bomber dai veloce ragazzo veloce veloce 5 secondi dai massimo proprio bravi tre mamma questi sono dei big boss ma facca big bomb sto cazzo ero dodicesimo sono finito diciannovesimo martesio ladro speggio speggio speriamo che stiamo facendo tutti la cura del sole ai box e tutti ce ne stanno due in crow ce ne stanno due in crow ce ne abbaffanculo stretta troppo stretta sono ripartito prima però ho fatto male ecco sono anche più veloci madonna mi ma quando faccio gli errori sono sempre più veloci nei settori ma come cazzo è possibile cazzo è stato c'era una macchina d'olio non lo so chi è questo Hamilton Hamilton quindicesimo oh no oh calmo 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 lì gabby calmo non c'è fretta calmo non c'è fretta in cazzo non sei dicesimo che rischio no no vai 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 per i valentizi il motore è troppo potente scarica troppi calmi troppa coppia sì devo arrivare prima dei dieci sono fesso prima del decimo posto ovviamente prima dei dieci che cazzo è grossi gian grossi gian non mi superare grossi gian grossi gian credi ti fa male va a scantare va a scantare va a scantare sì safety car my fucking love ma vaffanculo bucchino qua l'unica volta che ho visto al safety car mi diceva di andare piano cioè la gente non è che si riaccodava tutti in fila per bene no la gente stava dove cazzo era e rimaneva alla stessa velocità di prima come il DRS non funziona vabbè tanto non potevo neanche usarlo non c'è nessun cristo qua pezzi di merda ultimo giro il DRS non funziona ma ma oh 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 cazzo di scuderia scuderia dei pagliacci ma va a cagare mai più assauber non è affidabile una forza india cessi uguali ultimo giro non ti funziona oh mi dispiace non ti funziona il motore che cazzo ultimo giro chi è che c'è dietro bottas una bottas di vitas mi stai dietro ecco non capisco ho fatto 15 giri durante tutti i 15 vaffanculo durante tutti i 15 fottuti cazzo di giri vaffanculo porco giuda guarda guarda gli pneumatici ma sapete neanche darmi un paio di pneumatici un paio di sca... oh frena ma dai ma proprio l'ultimo giro dovete fottermi così ma siete dei figli di merda dai ma è troppo programmato sto cazzo di gioco su vabbè stavo dicendo ma proprio l'ultimo giro no no tutti i giri tutti i giri ci sono quei cazzo di fuochi d'artificio che esplodono ma che cazzo c'hanno scoppio infinito oh ma non sterza non sterza più ma perché l'ultimo giro non deve funzionare l'auto andate a cagare voi codemasters baffanculo siete dei figli di puttana fatevelo dire già faccio schifo già c'ho una scuderia di merda ti fanno anche non funzionare l'auto cioè ti dicono non spingere al massimo attenzione gli pneumatici come fanno a spingere al massimo se tu non spingi al massimo ti superano tutti c'hai un'auto del cazzo ma che cazzo commentate a fare va bene dai almeno ho finito una gara non le finisco quasi mai prossima gara in corea ah corea corea fatemela ricordare mi ricordo dei circuiti asiatici e mi fanno cagare pure quelli vabbè ragazzi ci vediamo al prossimo video mi raccomando seguitemi like commento condivisione però siamo su twitch quindi no mi raccomando ragazzi like commento condivisione ci vediamo al prossimo video rompete le righe